buongiorno amici 7 gennaio 2017 sono le 8 e 30 del mattino e questa è la nostra piazza vedete con la neve ancora spalano e mettono il sale e vediamo adesso il nostro per vedere il panorama ve lo mostro ecco stamattina è uscito pure il sole vedete teniamoci un passo qui sennò il sole ci viene di fronte e vedete che bellezza che molti di voi che state lontani godete nel vedere queste foto come quando io ero lontano dal paese pensavo a lui chissà com'è il mio paese quando piove quando nevica quando io manco da molti anni ed eccolo qui stupendo per voi grazie